buonasera a tutti volevo fare questa sera un unboxing di un nuovo acquisto e un profumo che della serie sempre profumi con incenso e balsamici che sono la mia categoria preferita è un profumo che ho avuto come campioncino ho avuto modo di provare e alla fine mi sono decisa all'acquisto ve lo faccio vedere Homme inspire and smile bois de meditation giroufle feuilles e noir vanillé 50 ml eau de parfum di miller e bertaux paris e poi sopra a questo noi andiamo ad aprirlo molto carino anzi prima di distruggere la scatola lo sfidiamo qua ecco un po' di polvere lo sfidiamo eccolo qua bellino bellissimo l'ho acquistato oggi e l'ho pagato mi pare 70 euro per 50 ml me lo spruzzo è un profumo che come dicevo già conosco perché ho avuto ampiamente un modo di provarlo per me divino e si trasforma in gourmand in un secondo tempo questo non è una review è semplicemente un unboxing eventualmente vi posso fare una review più approfondita ma fatemi sapere se siete interessati o interessate come vi dicevo è molto balsamico legnoso l'incenzo e anche la vaniglia e mano a mano che si evolve rimane un fondo leggermente gourmand non molto non molto perché io comunque non amo i profumi gourmand e quindi non l'avrei acquistato e ultima cosa che voglio dire è che è un profumo molto 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 persistente prettamente invernale e autunnale ma io i profumi con l'incenso li uso durante tutto il periodo dell'anno e con questo finito vi ringrazio per aver visto il video se siete interessate sicuramente farò altre review e se vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi se vi va e vi ringrazio e ringrazio che ho commentato gli scorsi video e a prestissimo